La giornata di ieri è stata una giornata che potremmo definire di ordinaria follia. Una giornata difficile in cui le notizie che rimbalzavano sui social media amplificavano le evoluzioni preoccupanti del contagio da coronavirus che venivano prospettate a livello nazionale. Pur non essendo stato segnalato alcun caso di positività né su Fano né in provincia, un'ondata di psicosi collettiva ha investito la comunità intera. Una giornata che ha messo a dura prova supermercati e negozi di genere alimentari che sono stati presi d'assalto come se non ci fosse un domani da cittadini travolti dal senso di incertezza e sull'ondata dell'emotività irrazionale dettata dalle notizie vere e amplificata però da quelle false. Scaffali vuoti, generi di prima necessità andati esauriti nel breve lasso di una mezza giornata. Questa mattina, forse per i bollettini un po' più rassicuranti che non danno alcun contagio su Fano, sembra che il raziocinio abbia prevalso sull'istinto di sopravvivenza. Spesa normale o spesa da virus? No, normale. Normale, normale. E quindi? No, la solita spesa. Solita, ordinaria. Sì, sì, se niente non ci facciamo prendere dal panico. Normale. 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 Ieri c'è stato un po' un assalto. Sì, esagerato. Troppo. Speso di tutti i giorni. Eh, niente scorte. No, no, sì, un po' di pasta, una poca roba. Ma più che altro, tutte cose che si possono consumare. Sì, sì, sì. Niente fobia da virus? No, 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 per niente. Niente fobie da virus? No, dai, mi sembra tutto abbastanza esagerato, quindi andiamo tranquilli e speriamo bene. Ma spesa straordinaria o ordinaria? No, no, facciamo l'ordinaria, questa estria collettiva, dai. Noi siamo tranquilli. Tranquilli. Sì, ma sì, dai. Basta avere le minimi precauzioni che si dovrebbero avere sempre. Spinacci, bibite, pasta e pesce e poi spero che basti. Spero che basti. Tanta, tanta altra roba. Però è roba che uno comprerebbe tutti i giorni. Tutti i giorni, no, no. Sì, sì, roba che compriamo tutti i giorni, quindi non ho fatto la scorta. Ciò che rimane invece in crisi è tutto il sistema di approvvigionamento. Ormai per tutta la grande distribuzione governato da algoritmi che calcolano le uscite e le scorte di magazzino, ma che a fronte di un'impennata spropositata delle vendite manda in tilt tutto il sistema per cui oggi la fornitura programmata non è sufficiente per compensare le uscite dei giorni scorsi. Ci vorranno, ci dicono gli addetti del settore, almeno un paio di settimane per riportare tutto nei giusti binari. Stiamo aggiornando anche manualmente tutto quello che è il programma normale, che ormai la normalità non c'è più, quindi bisogna che interveniamo manualmente. Tutti i settori, tutti gli operatori che sono addetti a queste funzioni devono intervenire manualmente su quelle che sono il riordino, il riassortimento della merce. Ancora il scaffale vuoto sono molti, soprattutto quello che si parla dei primi approvvigionamenti e soprattutto quello che è il discorso degli igienizzanti, disinfettanti, detergenti, ma anche la pasta. Tutti i prodotti che sono normali, la frutta, siamo andati tutti in crisi, ma questo purtroppo è normale, quindi sono pochi i settori che non sono stati coinvolti da questa cosa. Grazie a tutti.